Proprio in questi giorni è ripreso la posa del tubo di aduzione del depuratore a ronco. In questi giorni verranno riaperti gli scavi in via Dante, quindi zona Piazza 4 Novembre e proprio propedeuticamente a questo il mercato per i prossimi tre giovedì barra quattro giovedì verrà spostato su via Gramsci proprio per permettere questi interventi. Dalla parte invece a Levante della città verrà chiusa il traffico per una decina, quindicina di giorni via Maggiocco proprio per permettere l'allaccio finale del depuratore. Questi sono lavori che interessano le condutture, a che punto siamo invece con la struttura vera e propria del depuratore? La struttura diciamo che dal punto di vista della sua staticità è completata e le vasche sono già pronte. Ora si sta cominciando a tutto quello che è l'arredo, chiamiamolo arredo esterno, comunque la finitura esterna del depuratore compreso la risistemazione del tetto del depuratore. Si sta valutando anche per gli impianti che andranno a corredo della struttura? Assolutamente sì, lì è stata fatta una valutazione importante da parte dell'amministrazione insieme al sindaco Bagnasco al consigliere Vittorio Pellerano sulla tipologia di intervento da porre in atto sul tetto del depuratore. Lì era in origine un'area esclusivamente a verde ma la valutazione è stata del fatto di dargli una valenza sportiva un po' anche in ottica della nostra visione sulla città di Rapallo. Quindi fra le valutazioni che sono state fatte la pista di atletica ma le dimensioni purtroppo non lo permettevano perché anche quello è un punto che sarebbe da andare a mettere mano dal punto di vista sportivo o giochi di squadra che però non permettevano parcheggi così ampi e abbondanti. Quindi si è optato per uno sport che sta avendo grandissimo successo nelle zone limitrofe che c'è il paddle che è una sorta di tennis, misto tennis squash, mi scuso magari con gli appassionati che non sia proprio la definizione corretta però uno sport che sta avendo molto successo. Oltre ai due campi ci sarà una zona coperta dove ci sarà uno spogliatoio uomo-donna, ci sarà un ufficio e una zona comune, oltre una piccola area dove poter fare riunioni fino a una centinaia di persone.